Ci troviamo a Fara San Martino, oggi è lunedì, c'è il raggruppamento della scuola calcio per le categorie primi calci, piccoli amici e puccini, qua c'è tutte le tre categorie suscitate della Virtus Castel Trentano, qua a Fara San Martino, stanno arrivando i ragazzi con i loro genitori, ci troviamo proprio tra le montagne, arrivano i ragazzi, i genitori, ovviamente i ragazzi non hanno la divisa ufficiale nostra, in quanto sono nuovi e in settimana arriveranno i kit per tutti. ecco le montagne, la gola, un'altra gola là sotto, là c'è il manto artificiale, andiamo a cambiare, ci troviamo a Fara San Martino, ai piedi, alle pendicci della montagna, della maiella, ora lascio la ripresa, lo riprenderò più tardi con le esibizioni dei ragazzi. a proposito.